Toscana Lab si parla di tecnologia, innovazione, comunicazione. La provincia di Arezzo lavora un progetto importante. Artù, di cosa si tratta? Si tratta di un'esperienza sperimentale, un progetto pilota che sarà a metà tra un'esperienza di citizen journalism realizzata da una redazione creata da tutti i ragazzi e un portale che vuole parlare di politiche giovanili attraverso anche uno strumento di georeferenziazione Google di tutte quelle esperienze che sul mondo delle politiche giovanili si muovono in termini di cultura, solidarietà e sensibilizzazione nel nostro territorio. È un'esperienza nuova che non c'è in giro e quindi è uno strumento innovativo tutto anche da verificare nell'indice di gradimento che può avere con i ragazzi e proprio per questo abbiamo deciso di presentarlo ad Arezzo Wave nei giorni tra il 12 e il 15 di luglio ad Arezzo, direttamente a contatto con i ragazzi, con uno stand, invece di fare la solita presentazione con conferenza stampa e annessi vari. D'altronde dobbiamo utilizzare gli strumenti che i ragazzi utilizzano quotidianamente e per questo Arezzo è stato costruito su una piattaforma open space che utilizza WordPress e si appoggerà poi a tutti gli strumenti social che normalmente vengono utilizzati. È un modo per utilizzare la rete gratuita che viene utilizzata dai ragazzi mettendola a servizio dei ragazzi dopodiché speriamo che il progetto avrà successo e che quindi inizi a essere continuamente georeferenziate tante cose e che il portale diventi anche un'occasione di incontro per i ragazzi. Tra l'altro per valorizzare la creatività giovanile faremo anche un piccolo concorso, il protagonista del mese, per cui l'esperienza più significativa di creatività verrà selezionata una volta al mese e valorizzata attraverso gli strumenti che l'amministrazione ha. A parte questo progetto si è parlato anche di criticità, di imprenditoria, di tecnologie, è emerso sempre il problema soprattutto in questa zona della Toscana della Banda Larga. Io vivo teoricamente in una zona doc che sarebbe il Valdarno però siccome vivo a Cavriglia sulla collina non abbiamo la Banda Larga e ci appoggiamo quindi a altre ditte e qui in Valtiberina c'è lo stesso problema. Io credo che la politica debba farsi più sentire sul tema della creazione delle infrastrutture digitali e perché non è pensabile che lo sviluppo di un paese come l'Italia sia affidato alle scelte di poche aziende che decidono se investire o meno in Banda Larga laddove hanno interesse. Per questo c'è bisogno di una politica più forte o quantomeno di enti locali che abbiano la possibilità di investire sulle infrastrutture. Faccio l'esempio nostro. Noi abbiamo circa 70 milioni di euro in cassa come amministrazione provinciale. Alcuni di questi potrebbero essere spesi per creare infrastrutture in Banda Larga purtroppo però il patto di stabilità non ce li fa spendere e quindi alla fine se gli investimenti non ce li fanno e non ci permettono a noi neanche di investire diventa veramente complicato creare sviluppo e poi chi ne risente per il territorio e lo sviluppo dei territori non è più sostenibile questa situazione.